Noi oggi stiamo facendo un presidio presso gli appalti SDA su Arezzo e su Firenze contro un'azienda di Roma che si chiama Total Consortium che al momento a quello che ci riferiscono i lavoratori non rispetta i diritti sindacali e soprattutto fa una guerra intestina alla CGL e quindi noi chiediamo oggi con questo presidio a SDA di intervenire immediatamente per rimuovere le cause che hanno portato a questo Si tindi protesta della filta CGL di fronte alla sede di Barialpino della SDA presso la quale opera in appalto per il colosso del settore l'azienda di distribuzione merci MDS sono in tutto 25 i dipendenti al lavoro nella sede della Val di Chiana nessuno però ha preso parte al presidio Perché qui c'è un clima di paura e quindi ovviamente i lavoratori sono dentro ma noi siamo fuori per fargli sentire la vicinanza della CGL Il messaggio è molto chiaro più che un pregiudizio di colore è un pregiudizio perché la CGL cerca di far valere determinati diritti il diritto ad iscriversi, il diritto al rispetto del contratto, il diritto della dignità della persona che non viene a lavorare perché ha da perdere tempo, perché ha da portare il pane a casa quindi ecco su questo la CGL c'è, sta sul pezzo e appunto come diceva il compagno siamo davanti all'azienda per far capire ai lavoratori che non devono aver paura delle intimidazioni perché il sindacato c'è Ma le problematiche sollevate dal sindacato non si esauriscono unicamente con la mancata libertà sindacale In questo settore da quando è esploso l'e-commerce si stanno facendo degli enormi guadagni guadagni sulla pelle dei lavoratori che spesso e volentieri lavorano 12 ore al giorno essendo pagati 1200 euro, 1300 euro al mese senza straordinari riconosciuti, senza che siano riconosciute le trasferte gente che fa anche 400 km al giorno su un furgone o su un camion e non gli vengono riconosciuti Grazie 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 a tutti.